Oggi vediamo come si può seccare facilmente un fico d'india, ma va bene anche per qualsiasi altra pianta, con del semplice sale, in questo caso è sale grosso, ma va bene anche il sale piccolo, che cosa ci occorre praticamente? Una busta, un nastro da elettricista e appunto il sale, è un metodo semplicissimo invece di andare a utilizzare i diservanti utilizziamo il sale che è naturale, lo andremo a posizionare in modo che penetra nel circolo linfatico della pianta e la secca completamente. Prima di andare a vedere come si fa, vediamo qua due piante uguali, trattate in modo diverso, questa l'ho trattata anno scorso con il sale e questa sto cercando continuamente di eliminarla tagliando i rami, ma io come tagli i rami lei farà sempre nuovi rami, quindi non riesco ad eliminarla. Invece con l'applicazione del sale si secca la pianta e si seccono anche le radici e poi marcisce proprio, guardate qua come come è ridotta, oramai è diventata anche morbida. Vediamo subito su questa pianta come si applica. Per prima cosa devo prendermi una parte di pianta e tagliarla, devo avere almeno un taglio vivo, quindi io mi taglio questa porzione qua di fico, vedete adesso qui ho una parte di pianta che è a vivo e il resto posso anche lasciarlo stare. Adesso qui ci metto la busta e il sale dentro, metto circa mezzo chilo di sale dentro la busta, è sufficiente così. Ora devo far aderire la parte esterna della busta, quindi i lembi esterni alla parte del tronco del fico d'india. Fate aderire i lembi superficiali della vostra busta intorno alla pianta, nella parte posteriore tenetela distesa, nella parte anteriore siccome sicuramente vi avanzerà, la potete anche ammucchiare in questo modo qui. Ora andiamo a fare un po' di giri di nastro intorno alla pianta in modo che la busta la teniamo ben aderente al fusso del nostro fico d'india. In pratica io quando adesso andrò a girare sottosopra la mia busta, il sale non dovrà chiaramente cadere, dovrà essere un contenitore. eccoci qua. A questo punto io giro in alto la busta, in questo modo qua, faccio scendere tutto il sale sopra al taglio, sopra la ferita che ho creato e poi vado a chiudere di nuovo con il nastro in questo punto qua in alto, in modo che il sale è tutto sopra la ferita, non si muoverà più, bastano un paio di giri di nastro in questo modo qua, ecco fatto. Ora possiamo anche andare a togliere con un paio di forbici questa parte qua superficiale, non ci interessa più. Adesso il sale pian piano si scioglierà, penetrerà nel circolo linfatico della pianta, andrà nell'apparato radicale, andrà sulla parte della vegetazione esterna e la pianta piano 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 si seccherà. Spero che anche questo video veloce vi sia piaciuto, poi mi raccomando, eh ragazzi sempre in gamba, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao!